Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di Il Nonno Arturo. Ma nonno Arturo, dove sei? Ciao, sono su internet. Sei su internet? Ma perché sei su internet? Cosa fai lì? Videoconferenza. Ma dimmi perché sei in videoconferenza e non sei qui accanto a me. Ma non lo vedi? Che sono malato. Eh sì, lo vedo, ma cosa hai fatto? Eh, mi sono ammalato. Hai preso freddo? Ma no. No. Io sto bene, non mi prendo mai freddo. Allora come hai fatto a ammalarti? Ho guardato la tv. E cosa hanno fatto la tv? Eh, dicevano i morti, le malattie, i feriti, i contagiati. Ho avuto paura. Ma allora non sei ammalato? Hai paura di essere ammalato. È diverso. Ah, dici che non è la stessa cosa? No, perché la paura è fatta di niente. E quindi si può vincere la paura. Eh, come si vince? Cioè io ho preso la tachipirina e sto malissimo. Ma perché tu hai preso una pastiglia per la febbre? Non hai la febbre, Arturo. Cosa stai facendo? Ho preso l'antinfiammatori. Sto male la pancia. No, ma no, ma nonno Arturo, ma... Tranquillizzati, adesso ti racconto una favola in cui ti insegna che la paura è fatta di niente e che bisogna sconfiggerla. La paura? Sì, sei d'accordo? Ma scusami, io... Eh? Io? Sai come ho fatto? Cosa hai fatto? Ho spento la tv! E sto già meglio, eh? Eh, allora devi accendere la quattro. Oh, infatti, l'ho accesa. E lì non si parla di morti. No, lì si ride, si scherza, si parla di cose molto interessanti. Bene, comunque... Sì. Io sono vecchio. Lo so che sei vecchio. Ti posso dire una cosa importante? Sì, dimmela che ti ascolto. La qualità della vita che conta... Sì. È la qualità della vita che hai. Certo, è vero. Se tu vivi bene nell'amore, puoi morire quando vuoi. Io sono pronto. Come sei filosofico oggi, nonno Arturo. Ho studiato. Però è vero, l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'amore fa guarire tutto e ci fa star bene. Quando c'è l'amore, c'è casa. Giusto, nonno Arturo. Però lo sai che ti devo confessare che anch'io ho una paura. Quella dei serpenti. E perché ridi? Ma... Nonno Arturo? E qua sorride. Perché ridi? Ma perché i serpenti non fanno paura? Io ne ho quattro in casa. Allora non verrò mai a trovarti. Ho paura. No, no, no. Non mi chiedi quali sono? Eh, quali sono i serpenti? Eh, sono mia moglie. Sì. Mia figlia. Mia nipote e la vicina di casa. Ma non sono serpenti, sono persone. Parenti serpenti. Eh, parenti serpenti. Questa dove l'hai trovata? Ma l'ho letta su internet. Ecco, forse è meglio che non entri più tanto in internet. Insomma, sai perché sono serpenti? Non me lo chiedi? Sono serpenti, dimmi. Perché quando... Dai, leggimi la favoletta, dai. Ma no, adesso dimmelo, mi hai stuzzicato. Perché parlano male di me quando esco di casa, perché non gli piacciono i miei capelli alla tram. Davvero? Ma davvero? Ma sei sicuro? Ma secondo me no. Sì, dicono sempre che ho i capelli che sembrano una carota. Dai, leggimi la favoletta. Leggimi la favoletta, dai. Leggimi... Costo male, leggimi la favoletta. Va bene, stai lì tranquillo, eh. Sì, sì. Si intitola. Io non commento, eh, non dico niente. Devi stare in silenzio e ascoltare. Zitto. La pantera che aveva paura della sua ombra. Anch'io paura? C'era una volta una giovane pantera che aveva paura di tutto. Fin da piccola il minimo rumore la spaventava. Cosa fai che mi spaventi? Hai visto? Anche tu hai paura. Eh sì, se fai così. Aveva anche paura del buio, come penso tanti bambini. Anch'io ho paura del buio. Anche tu? No, non è vero. Nel buio non c'è niente di diverso di quello che c'è quando c'è il sole. Eh sì. Sì, infatti la nostra amica pantera non appena calava la sera filava nel suo letto e quando era al sicuro sotto le coperte teneva una luce accesa. Anch'io? Nel caso in cui sotto il letto si fosse nascosto un mostro pronto a mangiarla. Cos'è la vicina di casa? Eh non lo so, hai una vicina mostro tu? Beh insomma. Ma anche la sua ombra la spaventava. Anche a me fa paura. Sì? Sì. Mostri appiccicosi, serpenti velenosi, pipistrelli assetati di sangue. La pantera li immaginava tutti nel bosco. Ma scusa la pantera che ha paura ma non ci credo. Eh sì. Non se ne parlava proprio di andare a raccogliere dei funghi nel bosco. Tranne che veniva accompagnata. Da Sursindi? Eh per esempio. Ma bello. Ma non so chi era il sindaco del bosco. Ma non so. Quanto alla caccia con i fratelli. Nianca a pensarci. No. Anche in branco alla sola idea di trovarsi faccia a faccia con una bestia pelosa la pantera se la dava gambe. Oddio che paura. E a memoria di pantera non si era mai vista una cosa simile. Pantera mia non si può andare avanti così. Gli disse un giorno la mamma. La mamma pantera? Sì. Cos'era una panterona? Una panterona. Me la presenti? Dai nanna Arturo lasciami leggere la storia. Devi vedere il mondo e affrontare le tue paure. Io lo vedo il mondo. Ho fiducia in te. Aggiunse il papà. Oddio che paura. Ce la farai. Il panterone. È il panterone. Fu così che la pantera tremante di paura. Scusa nella storia ci sono anche le pantegane. Non c'entrano niente le pantegane con le pantere. E vabbè sempre con le pant... Le pantofole anche. E le pantofole. Io me le metto quando sono in casa mi metto le pantofole. Per fortuna. Chissà che puzza sennò ai piedi. Fu così che la pantera tremante di paura si trovò tutta sola nel suo cammino. Ma aveva fatto solo pochi passi quanto udì delle voci. Due figure inquietanti si stavano avvicinando. Accecato dal terrore, la pantera balzò tra i cespugli. Ai, ai, ai. Era atterrata sulle ortiche. No, sull'ombra. Era l'ombra. No. Sì. Questi sono sicuramente due briganti che mi taglieranno il collo. E in quel momento apparvero di fronte a lui un orso e una volpe. Dall'aria divertuta. Scusa Flavia, ma che è un giardino zoologico questa favola? Eh, ma siamo nel bosco. Ma che è il bosco con l'orso e la volpe, ma dai. Amico, non sei molto bravo a nasconderti. Le ortiche non ti coprono e in più pungono. Forza, vieni fuori, fatti vedere. Tutta confusa, la pantera uscì dal suo nascondiglio e non se ne pentì. Si divertì e mangiò assai, assai. Ancchio, c'ho la fame. Ma quando è che si mangia, Flavia? Quando ho finito la storia, va bene. Eh, vabbè, ma spiegati che poi qua la scheda finisce, eh. Se continui a interrompermi. La pantera ripartì col cuore contento, ma non durò molto. No, la felicità è breve. Non per quello, perché presto calò la sera. Ho paura, tutta la notte è sola nel bosco. Non si aprirà. Bu! Si sentì un'altra voce che piangeva. No, ma questo bosco è frequentatissimo, cavolo. Io lì all'usione non ce l'ho, tutto questa gente. Ho paura, c'è una pantera, sono spacciata. La pantera si guardò intorno e trovò un leprotto imprigionato in una trappola. Buono il leprotto. Sì, ma la pantera era buona. Io non sono una pantera cattiva, l'assicurò. Ora ti libero. Improvvisamente, però, furono investiti da un fascio di luce. No, i carabinieri. No, orrore davanti a loro. C'erano i cacciatori. Oh mio Dio. Alla vista della pantera, l'uomo lanciò un grido. Wow! E lasciò cadere il fucile. Hai visto? Con il cuore che gli batteva all'impazzata. Boom, 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 boom. Ha visto la ombra? La pantera fece un passo in avanti. Liberò il leprotto e fuggì nella notte. E poi se l'ha mangiato? Ma no, ascolta, la lepre corse... Ma che storia è? Non c'è azione. Ma ascolta, ascolta, corse per chilometri, chilometri, finché scoprì una vecchia tana sotterranea e vi si rifugiò con il leprotto ancora tremante. Ai, 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 povero leprotto. Sì, ma la pantera era così brava che la tranquillizzò. Passò la serata a raccontargli storie avventurose. Pensate, invece di mangiarsi il leprotto, gli racconta le favole. Eh certo, se è buona. Che fantana leprotto! Si addormentò tutto coccolato contro di lui il leprotto. La pantera capì che la notte poteva essere bella e serena. E il giorno dopo, la pantera aiutò l'leprotto a ritrovarsi la sua famiglia. E l'ombra? E l'ombra non aveva più paura delle ombre. No! Lei riprese il suo cammino verso la casa e fu felice e contenta perché aveva sconfitto la sua paura, anzi le sue paure. Ho capito! Eh, nonno Arturo, e tu le hai sconfitte le tue paure. Guarda, una pantera fifona come questa non l'ho sentita mai in nessuna favola. Io sono cresciuto con il lupo cattivo, la pantera cattiva e l'orso cattivo. Invece qua erano tutti buoni tranne il leprotto che era cattivo. Ma no, anche il leprotto era buono. Anche il leprotto? Erano tutti buoni. Ma le tue favole sono buoniste. Ma perché la mia favola ti insegna che non devi avere paura. Io ho paura di una cosa sola. Di cosa adesso? Di restare da solo. Ma non sei da solo? Guarda quanti bambini ci sono a casa che ti vogliono bene. Forse vanno tutti via, scappano tutti. Ma perché c'è questo virus brutto che si chiama coronavirus che fa un po' paura, ammostriciattolo eh. Ma mangio anche noi personaggi della fantasia. Attacca tutti, è per quello che bisogna proteggersi. Ho capito. Devi metterti la mascherina quando vai in giro ed usare il disinfettante per le mani. No, no. Sai cosa c'è? Io ormai ho 103 anni. Ma la vita è sempre importante. Io voglio stare con la mia nipotina, con mia figlia, voglio abbracciare tutti. Ma non si può abbracciare tutti. Non mi interessa. Puoi abbracciare solo i tuoi familiari, quindi la tua figlia sì, la tua nipotina no. No, perché non è un familiare la nipotina? Sì, ma non abita nella tua stessa casa. Oddio. Va bene, dai. Sono triste. Ora non ho paura, ma sono triste. No, devi essere felice perché noi ci ritroveremo qui ancora domenica prossima. Ah sì? Sì, e faremo qualcosa d'altro di ancora più bello. Oh, giochiamo con i Playmobil. Esatto, ti piacciono i Playmobil? Assolutamente. Io ho un caro amico. Sì, e cosa fa? Anzi, chiedo alla regia di portarmelo. Ho un caro amico che ti volevo presentare. Ah, l'amico rosso. È un grosso personaggio della politica lui. Davvero? È il sindaco. Di dove? È di un, non te lo posso dire, ma di una nota località qui del Ticino. È un sindaco importante, molto evoluto. Ma perché non me lo dici? È perché lui è un po' mezzo pirata. È un pirata. Ecco, guarda, dalla regia me lo stanno portando, vedi? Oh, ma che bello che mi giro a vederlo a me. Fallo sedere, poverino, fallo sedere vicino a me, dai. Ma che bello che è. Eh sì, lui è il pirata, eh. Ciao pirata. Ciao pirata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene. Ma allora vi aspettiamo tutti domenica prossima. Assolutamente. Ciao. E curati della tua finta malattia. Ciao bambini. Ciao, ciao. Oh, stavolta non mi sono addormentato, hai visto? Che miracolo. Eh perché le braccia sono riposate, quindi ce la faccio. Bravo. Ora vado a mangiare che ora ho fame. Anch'io, anch'io vado a mangiare. Pena della prima puntata. Ciao. Ciao. No, la terza. È la terza puntata. Certo, è già la terza. È la terza. Sei contento? Beh, adesso direi che non ha più paura e che è anche felice. Ciao bambini. Ciao. Cut.